Una manifestazione che è assolutamente preziosa perché ci permette di conoscere delle realtà che a volte erano misconosciute e che quindi mettono al centro quella che è l'innovazione che viene promossa così tanto dai giorni. Ragazzi che hanno un'intenzione, quella di poter crescere e conseguentemente di far crescere il paese, quindi una grande risorsa non solo per loro, le aziende e i loro collaboratori ma chiaramente un interesse nazionale perché queste innovazioni possono essere sostenibili. Può anche dare nuova l'info all'azione di governo, immagino? Certo, il compito che ho a capo del Dipartimento di Programmazione è quello di dare degli indirizzi rispetto ad obiettivi che il governo intende raggiungere nei prossimi anni. Ecco, riuscire a coinvolgere i giovani innovatori e in generale le associazioni di categoria proprio perché si crei un vero e proprio volano tra gli interessi privati e legittimi e l'interesse pubblico ci permetterà di raggiungere al meglio, più rapidamente e con minori costi, gli obiettivi che il governo si ha professato.